Ma no, Velovic è sereno e tranquillo, poi è normale che sia un ragazzo di 22 anni, comunque ritorna in un ambiente che lo ha cresciuto, l'ha fatto diventare quello che è, le ha dato la possibilità di andare a giocare all'avvento, è normale che ci sia emozioni da parte del ragazzo e quindi per lui sarà comunque una partita particolare. Nella partita particolare è sereno e tranquillo e lo deve rimanere. Altrimenti non giocherebbe mai più contro la Fiorentina, invece questi sono passaggi che si deve fare anche per la maturazione del ragazzo.